C'è qualcosa di crudele ma anche di affascinante in questo epilogo. Dal dischetto si decide la storia di questa stagione. Il tiratore piazza la palla sul dischetto. Il segnare ora è importantissimo per partire con il piede giusto. Splendida parata! Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Benzema è concentratissimo. L'ha piazzata alla destra del portiere. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Grande parata! Grande il portiere. Anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Si segna da un grande vantaggio la squadra. Un doppio vantaggio. Il portiere è rimasto praticamente immobile. E ora sono in vantaggio di due reti. Sono sotto di due gol. Devono segnare questo rigore per... Palla da una parte, portiere dall'altra. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. E qui hanno la possibilità di allungare, di ipotecare la vittoria. Rigore importantissimo. Che errore! Ma come ha sbagliato? È crollato sotto il peso della pressione. L'emozione gioca brutti scherzi. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Toni Kroos sarà il quarto rigorista della sua squadra. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. Freddissimo! Non doveva sbagliare. Non ha sbagliato. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Modric ha la possibilità di chiudere la partita. Stiamo a vedere se ce la fa. La partita è finita. Sì! Un rigore che vale la vittoria. Questa è una delle notti più importanti della loro vita. I campioni d'Europa sono loro. Un rigore che vale la vittoria. Un rigore che vale la vittoria. Un rigore che vale la vittoria. Grazie a tutti.